Sono Marcello Mamini, associato 50 e più di Pesaro, ma romagnolo di origine. Il mio curriculum è un po' complicato, sono stato pubblicitario, animatore di Radio Libere, insegnante, funzionario dello Stato. Il pensionamento mi ha concesso di dedicarmi a quello che più mi piace, scrivere. Scrivere un racconto, un romanzo, come fosse un oggetto di buon artigianato, guardarlo con orgoglio e dire però l'ho fatto io, dà una grande soddisfazione. Questa esperienza di vita è forse quella che ha ispirato l'argomento del video con cui ho partecipato al concorso Corti di lunga vita. Un anziano artista che ritrova il piacere di dipingere e sconfigge così le amarezze, la solitudine, la tristezza della vecchiaia. Rispecchio un po' forse molti miei sentimenti e molte mie idee. Ah, è lei il spessore. Buongiorno. Come vede mi sono rimesso a dipingere. Mi fa molto piacere. L'attività artistica e culturale offre un importante nutrimento a chi vi si accosta. Per una persona non più giovane può rappresentare un bisogno profondo. Il racconto è dunque realistico, la storia commovente, l'epilogo coinvolgente. Meravigliosi paesaggi che fanno da sfondo il cortometraggio, da voce allo spirito associativo che da decenni ispira l'azione di 50 e più. Grazie, facciarlo a me. Grazie. Grazie. Grazie.